Come lei saprà le nuove normative prevedono il rinnovo della patente perché ha più di 47 anni ogni 40 giorni. Lei è d'accordo? Non lo sapevo di questa notizia, no, non sono d'accordo per niente, è assurdo, ogni un mese e mezzo devo andare a rinnovare la patente. Ti chiedo scusa, io non guido. Sì, sono d'accordo, l'importante è che venga attuata già da appena un ragazzo prende la patente, quindi da 18 anni. E' un'altra s*****a che ha fatto il signor Monti? E' il ministro dei trasporti? E' allora una s*****a che ha fatto il ministro dei trasporti. Vabbè, non ero a corrente, meno male che me l'ha detto. Già sono intasate le motorizzazioni, poi non so come fanno perché per il rinnovo della patente per me è passato due mesi. Metterò la macchina in garage e aspetterò i mezzi. A 47 anni, sembra che una persona è soggetta a fare la nuova patente ogni 40 giorni. A 47 anni, 47 anni si salta il fosso per il lungo, non per il traverso. Come mai secondo lei hanno scelto proprio l'età dei 47 anni? Credo perché sia morto che parla. Credo perché sia morto che parla.